Renzo Battistini ci siamo, ne abbiamo parlato diffusamente nei nostri notiziari a Telemolise però il prossimo fine settimana c'è questa 22esima edizione che so che già ha un piccolo record perché mi dicevi che ci sono 99 iscritti Sì, effettivamente siamo arrivati a 99 iscrizioni In più c'è da aggiungere che nello slalom c'è stata un'altra manifestazione inserita che l'hanno voluto un po' i vecchi amici di Gianluca che parteciperanno a una gara, una specie di gara di regolarità sempre intervallata dalle barriere dei Pirilli e quindi ieri sera erano ancora 15 iscritti per cui 99 più 15 siamo arrivati a un numero veramente notevole che va oltre le più rose previsioni Ecco, siamo andati insieme sul percorso perché sai, se ne parla tanto però non avevamo mai visto di persona grande lavoro anche organizzativo da parte dei ragazzi di Mascione una serie di iniziative a sostegno insomma per una manifestazione che possiamo definire sicuramente un punto fermo nel panorama delle manifestazioni sportive molisane perché insomma è difficile che una manifestazione raggiunga questo numero di edizioni e anche questo livello organizzativo Mi fa piacere che tu sei voluto venire con me a fare un giro per quel percorso e così ti sei reso conto di persona di quello che è il lavoro sporco, chiamiamolo che sta dietro a tutta questa manifestazione quei ragazzi della Contrata Mascione direi che sono quasi un mese che stanno lavorando mattina e sera affinché il percorso si presenti nel migliore dei modi e penso che anche quest'anno riusciranno a fare una cosa veramente bellissima per cui come tu saprai ogni anno siamo soggetti alla decisione del direttore di gara che darà un ponteggio alla fine della gara e fino ad oggi, ringraziando Dio, abbiamo avuto sempre il massimo dei ponteggi per cui speriamo che pure quest'anno si possa ripetere questo Un'ultima cosa, evidentemente questa manifestazione ha un valore certamente affettivo, abbiamo anche mandato in onda domenica scorsa durante domenica sport un filmato secondo me bellissimo perché io non potevo crederci che dei ragazzi riuscissero a fare musica parole e montaggio di tre minuti veramente belli perché sono un po' il riassunto delle 21 edizioni precedenti Sì Antonio, non ti nascondo che quando l'ho visto pure io la prima volta stavamo giù a quel bar sotto Macione e mi sono molto commosso perché effettivamente non mi aspettavo nemmeno io che riuscissero a fare una cosa così bella e in così poco tempo